Eccoci, allora iniziamo questa lezione di oggi dove parleremo dello strumento di collaborazione che utilizzeremo nel corso, ma che poi di fatto questo strumento o altri del tutto equivalenti sono usati in tutti i team di sviluppo moderni di questo mondo. E parleremo del sistema Git per gestione delle versioni del software. A cosa serve tutto questo? Allora proviamo ad immaginarci qualche flash, qualche scenario. Primo scenario, ma a me non serve qualcosa di complicato, io lavoro da solo, ho il mio computer e quindi il software che sviluppo ce l'ho io sul mio computer. Il problema è che anche se lavorassi da solo sul tuo computer, comunque hai bisogno in qualche modo di organizzarti per avere un backup di quello che stai facendo. Perché se l'avete un backup di quello che fate, vero? Sempre. Aggiornato ieri. Lo sapete che la prossima volta che accendete il computer non partirà più? L'hard disk non parte più, si è rotto? Succede? Di sicuro, non è se succede, è quando succede. Ok? Io non vi terrorizzo mai abbastanza, ma proprio questa cosa, vi ridete, bravo. Arriva a casa, accende il computer e non parte più. Ok? Allora, sempre, i dati sono più importanti, il lavoro che ci sta dietro ai dati sono più importanti di tutto il resto. Quindi, rifiutatevi di fare un qualunque lavoro se non avete una coppia di riserva dei dati, un meccanismo per poter salvare i dati e recuperarli. Ah, io c'ho tutto sul telefono, è bravo, lo perdi. I dati si perdono. L'importante è avere delle copie, ma non la copia di due anni fa. Allora, pensateci seriamente, se non avete un backup, appena arrivate a casa, la prima cosa che fate, fatelo. La seconda è trovare un modo per farlo in modo automatico, perché se lo fate solamente quando uno come me gli fa le battutine, siete malmessi. Quindi, soprattutto se facciamo qualcosa per lavoro. Ogni tanto si sentono delle cose, delle cose di storia in giro su Facebook, aiutatemi, sono disperato, disperata, ho dimenticato la chiavetta sull'autobus, c'era tutto il lavoro di tesi. Ma sei scemo? E' così. Ma non solo un backup in caso di disastro, perdita di dati, ma anche la possibilità di avere versioni vecchie di ciò che stavamo facendo. Perché mi serve la versione di un mese fa? Ma perché magari per sbaglio nella scorsa settimana ho cancellato un pezzo che mi serviva, ho modificato qualcosa, non funziona più, non mi piace più, vorrei vedere come era prima che invece funzionava bene, o meglio. E quindi devo poter tornare indietro nel tempo. E allora, cosa posso fare? Beh, posso usare varie tecniche, c'è l'hard disk esterno, faccio la copia su Dropbox, copio sei volte su sei cartelle diverse, tanto se sullo stesso disco, se muore quello sei fregato, oppure sul pc del vicino, eccetera. Soluzioni artigianali. Però dipendono tutte da un'azione esplicita nostra. La versione del mese scorso, come la chiamo? Il mese scorso, ultima, la penultima, come chiamo la cartella? Diventa difficile da gestire. Poi ovviamente le cose si complicano nel momento in cui aumenta la complessità del nostro ambiente di sviluppo. Pensiamo anche solo di essere da soli, ma lavorare su due computer, il portatile e il fisso che magari ho a casa. Allora, già lì, su quale computer ho la versione ultima del programma? Ho fatto delle modifiche in Pullman, però ieri sera ne avevo fatte altre sull'altro computer, ho due versioni che non sono più uguali, come faccio a metterle insieme? Noi parliamo di software, ma vale per tutto, vale per la tesi, vale per un documento, vale per dei dati, no, qualunque, siamo con gli insiemi di informazioni che gestiamo col pc. Anche qua, qui si aggiungono i problemi perché non solo devo salvare dei dati, ma devo anche riuscire a trasportarli avanti e indietro in modo coerente. Ovviamente, con tutti i problemi, i rischi aumentano, no? Soprattutto il fatto che non so più qual è l'ultima versione, non so più che modifiche ho fatto, e rischio semplicemente ripristinando una versione, che ne so, dal portatile e dal fisso, di cancellare il lavoro che avevo fatto, senza accorgermene. Perché lui, quando faccio copia e incolla, non è che l'incolla mi dice, sì, mi dice questo file esisteva già, ma non mi dice guarda che l'altro ieri l'hai modificato, non ti ricordi più tu, ma io mi ricordo, no? Non te lo dice, copia e incolla. Mi serve qualcosa che me lo dica. Ovviamente, il caso reale, quello in cui abbiamo più sviluppatori, che usano più computer, è ingestibile. Avete mai provato, sicuramente l'avete fatto, lavorare anche solo su un documento, una tesina di 5 pagine, in 3 persone, che giri di mail assurdi, in cui non si capisce più niente. Non si capisce più niente è la versione gentile di ciò che succede. In pratica girano versioni senza controllo, in cui alla fine c'è uno che dice, si sacrifica e dice, sentite, mandate a me e poi cerco di mettere a posto. E allora si ricentralizza tutto, ma si perdono i vantaggi di un lavoro distribuito. Figuriamoci, può scambiandolo via mail. Quindi, i problemi di una gestione, di un insieme di documenti, parliamo del codice sorgente per fare il nostro esempio che interessa in questo corso, è un problema serio. E per questo sono nati, da decenni, ecco, un motivo in più perché non avete scusa per non avere il backup, da decenni esistono sistemi di controllo delle versioni. Cioè, sono dei sistemi che si affiancano alle cartelle in cui hai i tuoi file e ti permettono di mantenere la storia delle varie versioni del lavoro che hai fatto individualmente o in gruppo. Ci sono state ovviamente varie generazioni, varie evoluzioni di questi sistemi di versionamento, o versione console systems, e adesso, diciamo, la generazione attuale è quella dei sistemi di controllo delle versioni distribuiti, di cui il più famoso e più utilizzato è quello che si chiama Git. è un po' ostico da digerire all'inizio, no? Altri sistemi centralizzati erano più semplici da usare e anche da capire, però cercheremo di prenderlo a piccoli morsi in modo da imparare quel poco che ci serve per poter lavorare, sapendo che è uno dei sistemi, diciamo, di più complessi. Tanto per farne un minimo di storia, Git è stato inventato da Linus Torvalds, che è lo stesso inventore di Linux, e se l'ha inventato perché i sistemi di versionamento precedenti non erano in grado di gestire la complessità del lavorare sul kernel di Linux. Il kernel di Linux sono centinaia di migliaia di linee di codice, una parte in C, qualcosa in Assembler, su cui lavorano migliaia di sviluppatori al mondo. E quindi c'era bisogno di coordinare un team di lavoro di questo genere. E quindi, visto che gli strumenti attuali non gli piacevano, si è inventato Git. Allora, abbiamo due concetti di base generali e poi vediamo come si mappano su Git. Allora, il concetto generale numero uno è quello di repository. Repository è un bidone, un contenitore, che contiene tutte le versioni del lavoro che è stato fatto. Dal primo giorno in cui c'era solamente Hello World all'ultima versione in cui c'è il contributo di 100 persone diverse. Ogni singola versione, ogni singola modifica di un albero di cartella, di un progetto, viene salvata all'interno di questo repository. Quindi se io mi porto, mi prendo in mano il repository, ho tutta la storia del progetto, in cui so cosa è stato cambiato, quando e da chi. In quale cartella, quando ho creato un file, quando l'ho cancellato, quando l'ho spostato, quando l'ho denominato, quando l'ho cancellato una riga, tutto. Quindi posso tornare indietro nel tempo, vedere chi ha modificato che cosa, eccetera, eccetera. Ho tutta la storia del progetto. Poi, questa è la storia. Della storia c'è il livello superficiale, è stato superficiale l'ultima versione, tipicamente, che è la versione su cui stiamo lavorando. Una copia di lavoro, la working copy, che sono i file sul nostro disk, su cui stiamo lavorando in questo momento, in questi giorni. Molto spesso la working copy è una copia della versione più recente del repository, della versione più recente contenuta nel repository. Ma magari io devo lavorare su una versione più vecchia, perché sto facendo un esperimento, una prova, un adattamento, non lo so. La working copy è semplicemente un insieme di file che sono sul mio hard disk e ci sto lavorando. Non condivisi, non versionati, non storicizzati. File normali, su cui lavoriamo normalmente. Allora, noi lavoriamo sulla working copy, ma dobbiamo fare in modo che tutte le modifiche che facciamo, perlomeno quelle rilevanti, sulla working copy, vengono storicizzate all'interno del repository. Quindi il repository diventa la storia delle versioni della working copy. Ovviamente per far questo, la working copy deve avere un minimo di informazioni su che cosa è stato modificato all'interno del working copy rispetto alla versione che avevo estratto dal repository. Se il repository, stamattina mi sveglio, prendo l'ultima versione, ci lavoro, però nel repository c'è un 100 file, io lavoro solamente su 3. Allora, io posso chiedere alla working copy, senti, ma che cosa ho modificato della mia working copy rispetto al repository, in modo che lui sappia quali sono le differenze effettivamente toccate. Non mi interessa andare a fare la copia integrale di tutto, dopo di che non capisco che cosa ho fatto, l'importante è capire quali modifiche sono state fatte, quando e da chi, no? Allora, per sincronizzare questi due set di informazioni, la copia di lavoro che appunto è semplicemente una cartella, un albero di cartelle e un repository che è qualcosa di più complesso, abbiamo due operazioni di base. La prima la chiamiamo commit, cioè commit è consolida, no? Lo tradurrei in italiano. Le modifiche che ho fatto sulla working copy vengono consolidate all'interno del repository. Salvo nel repository una versione nuova del lavoro, che è la versione che attualmente ho io di lavoro. La mia versione attuale di lavoro diventa una riga in più, uno strato in più all'interno del repository. Qui l'ho salvata per sempre. Ovviamente nel salvare lui farà tutti i controlli che non vada in conflitto con altre versioni esistenti, eccetera, ma questo fa parte del suo lavoro. Cioè il repository serve per mantenere la storia, per mantenere le differenze, differenze, cioè che cosa è cambiato e che cosa invece è rimasto uguale tra una versione e l'altra. Importante, quando io faccio un commit, è sempre scrivere perché, dare un messaggio di motivazione. Cosa ho modificato? Sì, va bene, in automatico lui il tool è in grado di capire che ho modificato la riga 3 del file lo.java, ma perché l'ho modificata? Per correggere un errore, per correggere un errore di battitura, per raggiungere delle funzionalità? Quindi, ad ogni commit si accompagna sempre un messaggio, un messaggio di log, un messaggio di spiegazione, che può essere letto come annotazione della storia. Tutti questi messaggi, di fatto, ti dicono le operazioni che sono state fatte dalle varie persone. E quindi, dal momento che ho fatto il commit, io potrei anche a questo punto perdere il computer, perché tanto il lavoro che ho fatto nel working copy è stato consolidato nel repository. Chiunque lo può andare a ricostruire, se ho committato tutto, scusate l'uso improprio dell'italiano. Poi c'è l'operazione inversa, che in Git in realtà assume due o tre forme diverse, ma concettualmente è un'operazione inversa di aggiornamento. Cioè, prendo dal repository, perché io sono stato in vacanza, e nella mia working copy non sono andato avanti nell'ultima settimana, ma altri ci hanno lavorato, e quindi il repository è più avanti rispetto alla mia working copy. Allora, se io quando torno alle vacanze non mi metto a lavorare sulla versione vecchia di una settimana. Come prima cosa vado a pescare l'ultima versione, committata da chiunque, e lavoro a partire da quella andando avanti. Quindi ho bisogno di rinfrescare, in qualche modo, aggiornare il contenuto della working copy riprendendo la versione più recente del repository. Oppure, io lavoro su due computer diversi, e quindi faccio un lavoro su un computer, faccio un commit su repository, e poi sull'altro computer faccio un update per allineare il contenuto del secondo computer dal repository. Non copio file tra un computer e l'altro in modo i caserecci, ma li sincronizzo semplicemente facendo avanzare i repository ogni volta che dobbiamo essenzialmente trasmigrare il lavoro da una macchina a un'altra. Quindi anche nel caso in cui ci sia uno sviluppatore solo, in cui sono andato in vacanza, il progetto non è andato avanti, ma magari sono sempre io, lo voglio continuare su un'altra macchina, o magari nel frattempo ho fatto degli esperimenti, delle prove sulla working copy, sono andate male, e quindi voglio fare un update andando a riprendere la versione vecchia precedente, buttando via i pacciocchi che ho fatto, perché non tanto sono delle prove. E quindi voglio andarmi a ripescare dal repository una versione, tipicamente l'ultima versione, ma anche eventualmente una versione vecchia. Ciò che fa l'aggiornamento è di andare a fondere, fare un'operazione di merge, una diffusione delle versioni che l'utente ha fatto sulla working copy con le variazioni che l'utente o altri utenti hanno fatto nel repository, in modo da mettere insieme il meglio del meglio. Cioè io sulla working copy ho modificato un file e nel repository non è stato toccato, ma nel repository invece è stato toccato un file diverso che io non ho toccato, allora a questo punto lui può aggiornare nella working copy le versioni nuove di entrambi i file. Ovviamente nel momento in cui lo stesso file è stato modificato sia da me che da qualcun altro, c'è un conflitto, in automatico lui non riesce a risolverlo, ovviamente non può dire più giusto il tuo, più giusto il suo. E quindi ti dirà attenzione c'è un conflitto, mettilo a posto, ovviamente non può fare cose, può gestire le cose che non creano conflitto in modo automatico, fare le fusioni automatiche, ma quelle invece diciamo quelli incompatibili no, più in un certo livello. Quindi questi sono i concetti di base. In un sistema di controllo di versioni centralizzato, che non è quello che usiamo noi, esiste un solo repository, da questo si chiama centralizzato, e questo repository tipicamente è su un computer terzo, esterno, su un server da qualche parte. sarebbe inutile avere un repository sul mio stesso computer, quando mi cazzo dal quarto piano, muore la working copy, muore il repository e io sono da capo. Inoltre, se un'altra persona ha bisogno di accedere al repository, non può sperare che io abbia il computer acceso e collegato. Quindi, è sempre su un server esterno e i vari sviluppatori lavorano ciascuno con una propria working copy. Questo è un modello abbastanza semplice, per cui, se ho bisogno di pescare l'ultima versione, dal repository mi aggiorno al mio working copy, ci lavoro, quando ho finito di lavorare faccio un commit sul repository. Questo, in qualche modo, è semplice da capire, relativamente semplice da gestire, ha un difetto, che se io non sono sempre collegato al repository centrale, se non sono sempre collegato a internet, perdo i vantaggi del version control. Se lavoro, se vado una settimana in camper e ovviamente devo lavorare e non sono collegato, le modifiche che farò potranno essere solamente fatte nella working copy. E tutto ciò che faccio lì non posso godere di versioni multiple, non posso salvare il lavoro che faccio in modo intermedio, perché il repository non è ringibile. E poi avere un repository unico per tutti richiede poi un lavoro di coordinamento a livello sociale, tra le persone, mettersi d'accordo, attenzione, adesso faccio il commit io, non farmo tra un minuto o tu, perché se no ci sovrascriviamo le variazioni. Allora, da qui sono nati i sistemi di controllo di versione distribuite come Git, in cui tutti i client, tutti i sviluppatori, sul proprio computer hanno una coppia integrale del repository. Più ce n'è una ovviamente su un server da qualche parte, quella non la buttiamo via, ci serve perché è riferimento, però oltre a quella che c'è sul server, oltre a quella che c'è su GitHub, copie dei repository, ogni sviluppatore ha una sua copia, completa, quindi ognuno ha la copia intera di tutto il progetto, tanto l'hard disk non costa, ok? L'hard disk costa centesimi di euro al gigabyte, non dobbiamo risparmiare quello. nei sistemi precedenti una delle preoccupazioni era anche quella di tenere sulle macchine di sviluppo solamente pochi dati, adesso tutta l'intera storia di un progetto è sempre meno del video che avete scaricato ieri come occupazione di spazio, quindi non facciamoci questi problemi. E quindi cosa significa? Significa che localmente io da solo posso avere la logica di version control sul mio computer, faccio delle modifiche e faccio commit sul mio repository, faccio altre modifiche, rifaccio commit, mi tengo le varie versioni del lavoro che sto facendo, le riprendo eccetera lavorando da solo e quindi ho una versione mia del repository che evolve per me, lo stesso faranno gli altri e a un certo punto però dobbiamo allinearci tutti con il repository centrale in cui le modifiche che ho fatto io sul mio repository se era un esperimento che è andato male me le tengo io, non le condivido con nessuno, se invece è una funzionalità che funziona bene allora la posso condividere facendo una copia del repository mio locale sul repository remoto centralizzato diciamo anche se non è vero perché di repository sul server potrebbe anche averne più di uno in posti diversi quindi non necessariamente uno solo centrale quindi centralizzato non c'è nulla normalmente ce n'è uno ma per esigenza possono esserne più di uno più di uno quindi qua le logiche chiaramente si complicano perché non ho solo più l'operazione di commit e di aggiornamento di rinfresco di update tra la working copy e il repository locale ma ho anche l'operazione di aggiornamento reciproco tra repository locale e repository remoto quindi ho un'operazione che chiamiamo i push in cui io spingo le modifiche che ho committato nel mio repository locale le spingo sul repository remoto e in questo modo condivido con gli altri un pezzo di storia del mio progetto non è uno singolo commit sono tutti i commit che ho fatto dall'ultima volta che ho fatto push perché io di commit posso fare tanti localmente sul mio repository e quindi sincronizzo verso l'alto in certo senso poi ovviamente c'è anche la sincronizzazione verso il basso che prende il nome simmetrico di pull in cui io mi aggiorno il mio repository locale a partire dalle modifiche dall'ultima versione del repository remoto che ovviamente conterrà le altre modifiche fatte dagli altri sviluppatori nei loro repository locali che sono state pushate sono state inviate con un push al repository remoto centralizzato quindi in questa architettura distribuita abbiamo sempre due passaggi io modifichi un file nella working copy poi faccio commit per salvarmelo nella mia repository locale e poi farò un push per condividerlo sul server remoto questo in generale in particolare git è uno come dicevo dei due insieme a mercurial sistemi distribuiti ha una serie di comandi che concretizzano questo ragionamento generale che abbiamo fatto allora git si scarica da questo sito strano git.scm scm sta per resource control management probabilmente perché git era troppo corto non gli piaceva non lo so quindi uno se vuole può installarlo da lì tenendo preso di qui abbiamo solo messo alcuni nomi di chi usa git la risposta è praticamente tutti quindi per sviluppare le loro applicazioni allora per installarlo si può andare sulla pagina di download di questo sito git è un insieme di tool da linea di comando quindi dovete aprire una finestra di comando e scrivere git push git pull cose di questo genere in realtà per fortuna esistono una serie di front end quindi interfaccine grafiche che ci permettono di un pochino semplificarci il lavoro e non dover sempre ricordare i comandi che ci sono scritti sui foglietti che ho fatto circolare ah poi non scappate alla fine devo farvi una foto perché quelli di git la vogliono vedere quindi esistono dei front end grafici che ci aiutano a non dover ricordare a mano tutte le fotografie scusa tutte le opzioni di singoli comandi in particolare Eclipse dentro di sé ha già un front end grafico per git quindi in pratica avendo noi installato Eclipse lavorando con Eclipse non abbiamo bisogno di installare nulla perché git ce l'abbiamo già dentro Eclipse stesso c'è un plugin che si chiama eGit che fantasia Eclipse git che integra già i comandi qui noi impareremo sì i concetti di git ma soprattutto dove questo eGit li va a piazzare all'interno dei menu di Eclipse ok quindi se non avessimo Eclipse dovremmo installare sta roba ma in realtà nel nostro caso non ci serve vi serve se voleste usare git al di fuori di Eclipse ok allora localmente io posso avere la working copy posso avere il repository sul mio computer perfetto c'è già tutto quello che mi serve dentro Eclipse e per avere il repository remoto dove lo metto allora mi serve un servizio esterno che mi ospiti il repository remoto un servizio di hosting specifico per il repository git ce ne sono vari al mondo qui abbiamo elencati alcuni il più famoso il primo che ha preso piede quello più diffuso si chiama github github.com in realtà se vuoi ci sono gli applicativi open source per fartelo da solo se vuoi quindi non sei obbligato a appoggiare un cloud a un servizio di un'azienda esterna puoi anche costruirlo dal tuo interno ma noi per comodità per rapidità usiamo questo servizio esterno di github github è un servizio in cui gli utenti che in qualche modo è anche pensato per costruire una sorta di curriculum degli utenti quello che loro chiamano social coding cioè tu hai tanti progetti qui tu ti crei un tuo account sotto il tuo account crei tanti progetti e in qualche modo puoi decidere di condividere l'attività che fai sui progetti con chiunque ci possono essere progetti privati per cui puoi vederli solo tu e a livello social condividi solamente l'attività quanti commita hai fatto eccetera quante righe hai modificato ma non il sorgente non il file oppure puoi avere dei progetti pubblici chiunque può vedere il contenuto dei progetti pubblici farsene una coppia e lavorarci anche lui i progetti pubblici loro li chiamano repository i repository pubblici sono gratuiti per avere i repository privati invece devi pagare quindi è un modello che ha senso tutto sommato se tu lo fai o lavorando in un progetto open source oppure per gioco per divertimento per farti conoscere è gratis se invece lo fai per lavoro o per un'azienda dove ovviamente ciò che fai deve rimanere privato tu devi pagare per poter avere i repository privati tranne il campo educational voi come studenti potete chiedere vi create l'account vi darà un account base free che può creare solamente repository gratuiti ma se avete bisogno per fatti vostri per esigenze vostre di repository privati finché siete studenti potete chiederlo a GitHub c'è un bottone apposta in un sito education.gitar.com in cui potete chiedere che il vostro account diventi un account educational e quindi può godere anche di repository privati gratuitamente finché siete studenti quindi ogni anno vi rivolta una richiesta dovete dimostrare di essere ancora studenti e vi danno questo tra virgolette privilegio di avere gratis i repository privati se vi interessa vi dovete registrare ovviamente con la mail del Politecnico non con la mail di AU o mail o altro in modo che loro possano verificare in base alla mail che voi siete finemente ancora scritti dal Politecnico se vi interessa un'opportunità in questo corso non ci interessa nel senso che tanto ciò che metteremo lì sopra sono solamente le gestazioni di laboratorio quindi i testi fatti da noi le soluzioni e i vostri lavori poi se a qualcuno interessa giusto come informazione collaterale GitHub permette anche di pubblicare dei siti web quindi se tu hai un progettino e te lo fai su GitHub attraverso questo strumento molto facile GitHub Pages puoi automaticamente creare un piccolo sito web in cui presenti il tuo progetto e metti qualche pagina HTML non sono siti web dinamici in cui tu puoi programmare comportamento e avere un database sotto ma semplicemente un po' di pagine di presentazione in modo molto semplice già collegato al tuo progetto Git e indovina un po' già collegato al repository quindi il contenuto del sito viene versionato all'interno del repository stesso va bene via allora proviamo a vedere in pratica adesso abbandono le slide e passo seguiamo grossomodo gli argomenti delle slide ma facendoli in modo pratico perché così vediamo l'aspetto operativo allora apriamoci il nostro Eclipse e simuliamo di voler fare un progetto lavorarci sincronizzarlo con altri e così via ok allora passo 1 creazione di un progetto e condivisione su GitHub dello stesso progetto allora io apro Eclipse normalmente ho il mio workspace e i passaggi che faccio sono questi due che sono riassunti da queste slide le faccio solo rapidamente così per così visibilmente ve le ricordate ma adesso le facciamo passo a passo allora questo è riduciamo un po' di cose a questa risoluzione non si vede un tubo ovviamente togliti l'ho chiuso l'ho chiuso troppo ok allora chiudiamo il tasto list chiudiamo l'outline chiudiamo questo per il momento allora creiamo un nuovo progetto facciamo un progetto JavaFX di prova lo creiamo normalmente in Eclipse finora sarà un progetto normalissimo new project progetto JavaFX prova lo chiamo prova così poi lo cancellerò lo salva nel workspace finora non sto facendo nulla di speciale progetto qualunque next next packet name it odito tdp prova fxml e qui mi ha creato il progetto finora questi sono file sul mio hard disk non sono ancora una working copy perché la working copy deve essere collegata a un repository per sapere se è più vecchio o se è più recente e il repository non c'è ancora io voglio creare un repository quindi voglio trasformare questo da un progetto normale a un progetto con versioning collegato a git allora devo fare due cose devo creare repository locale e repository remoto allora per come funziona Eclipse è più comodo a questo punto creare prima repository remoto così di mentre creo repository locale locale in un passaggio solo lo collego a quello remoto faccio subito un push iniziale allora per creare repository remoto vado su github e lo creo voi potete creare un progetto io questo è il mio nome github io posso creare un repository e diventa il mio repository nel mio spazio di lavoro oppure in questo caso io che sono diciamo così ho il diritto di amministratore sul repository sul gruppo loro chiamano organization tdp 2017 mi sposto su tdp 2017 posso creare un repository all'interno dell'area dell'utente dell'organization se usiamo il nome vedete che se lo chiama disorganization dell'organizzazione github che si chiama tdp 2017 sì allora dall'home page io entrando facendo il login vedo il mio utente il mio spazio di lavoro voi fate login ok github.com questa è la pagina iniziale qui non vedete nulla allora vuol dire che avete solamente il vostro utente il vostro spazio utente e non avete accesso ad altre organization cosa che è normale noi non siete membri di un'organizzazione perché essendo i nostri repository pubblici non ho bisogno non ho avuto bisogno di metterli membri nel caso in cui uno abbia più organizzazioni le può modificare un po' come quando sei su facebook e hai varie pagine da gestire quindi commuti la tua identità in quel momento allora io lo creo in tdp 2017 così voi lo potete vedere anziché crearlo sotto il mio spazio personale in realtà sarebbe pubblico lo stesso ma è più facile da trovare new repository è l'azione da fare creiamo repository dove in quale spazio per quale utente e voi ne avrete uno solo nome del repository l'avevo chiamato prova l'avevo chiamato scusate un secondo non mi ricordo se l'ho chiamato maiuscolo o minuscolo il progetto l'ho chiamato minuscolo allora lo chiamo nello stesso modo per non far casino quindi crea un nuovo repository con un nome che qualunque ma è più comodo se il nome è lo stesso del progetto Eclipse progetto per provare il funzionamento di git con Eclipse un commento per ricordarmi che cos'è se non lo mettete subito non lo metterete mai più perché vi dimenticherete non avete mai voglia o tempo quindi è sempre meglio mettere subito il commento e qui vi dice se il repository che stiamo creando è pubblico oppure privato ovviamente privato se avete un piano che ve lo permetta e poi crea e poi creare un repository al primo passo vuoto con zero file dentro se fate ciò che vi suggerisce lui ma metti già un file readme qua dentro poi quando dai clip cercate di sincronizzarlo si arrabbia perché vede che quel repository è già stato modificato con un readme sulla versione che avete subito a computer il readme non c'è e dovete fare un passaggio in più per riuscire a collegarli quindi create un repository con nulla dentro ok? noi abbiamo semplicemente quindi dato il nome al repository finora crea adesso è stato creato vedete che quel repository è visibile a una pagina che sarà github.com slash il vostro username slash il nome del repository in questo caso il username è lo username del corso ok? lo vedete qua questa è la pagina github del repository l'indirizzo vero e proprio del repository è questo qua sotto htps github.com nome dell'utente nome del progetto .git in realtà si può arrivare sia attraverso htps sia attraverso ssh ma per farla semplice conviene usare htps che funziona sempre mentre ssh dovreste avere le chiavi private locali non lo complichiamo sono due indirizzi funzionano entrambi decidi tu con quale protocollo il tuo repository locale comunica con quello remoto htps va benissimo questo teniamo teniamo aperta questa pagina che ci serve tra un attimo torniamo su eclipse quindi ora abbiamo creato il repository remoto cosa c'è dentro niente e infatti lui ti dice attenzione che è vuoto e quindi devi prima creare delle cose metterci dentro delle cose allora noi andiamo in eclipse perché qualcosa da metterci dentro e ce l'abbiamo il nostro progettino tasto progetto tasto destro team tutte le cose che hanno a che fare col version control sono sotto il menu team di eclipse team e per creare repository e per creare repository locale il comando da dare è share project condividi il progetto condividilo con altri condividilo su github cioè crea un repository per condividerlo quindi riprendo sull'icona del progetto tasto destro team share project e adesso lui mi dice ok per condividere il progetto attraverso git bisogna creare un repository locale quello remoto l'abbiamo già costruito creato vuoto ma git per funzionare ha bisogno di un repository locale allora prima di tutto mi dice dove lo creo questo repository non è selezionata per default però la cosa ragionevole è creare repository all'interno della cartella di progetto tu puoi crearlo da un'altra parte se un secondo hard disk lo crei sul secondo hard disk quindi tiene le due cose separate scegli tu qual è la cartella in cui crearlo quella più semplice è all'interno del progetto quindi questa casella di spunta crea i repository all'interno della cartella di progetto allora in realtà lui è stupido perché dopo che hai messo questa spunta devi mettere anche quest'altra e dopo che hai messo anche quest'altra devi cliccare su create lo rifaccio a ralenti siamo qua qui siamo su share crea repository dove all'interno della cartella del progetto lui mi fa vedere la cartella del progetto è questa dove vuoi creare repository qui e quindi spunto questa di nuovo non me lascia far scusa devo prima far creare quindi la cartella del progetto è questa e lui cosa fa mi crea un repository che sta in questa cartella che è quella del progetto slash punto git quindi il repository sta dentro una cartella che si chiama punto git all'interno del mio progetto gli faccio creare questa cartella ok e a questo punto lui la riconosce ok finish allora ha già cambiato faccia il progetto perché sono comparse delle iconcine a fianco delle varie voci quindi adesso noi non la vediamo la cartella git perché il package explorer mi fa vedere solamente le cartelle che mi servono ma se voi apriste sul disco questa cartella qua dove c'è il progetto vedete che dentro c'è una cartella che si chiama punto git con un po' di roba dentro che non ci interessa perché se la riuscisce git da solo sono comparse delle icone questa icona gialla è quella di un bidone no? indica l'icone del repository vuol dire che a questo progetto è associato un repository poi ci sono dei segni di maggiore qua in grigino che dice attenzione che ciò che c'è qua adesso nel progetto è maggiore più recente più nuovo rispetto al repository è da aggiornare poi ci sono questi punti interrogativi che ti dicono non so cosa devo fare allora adesso cosa abbiamo fatto abbiamo un progetto locale abbiamo un repository locale abbiamo un repository remoto il repository locale però l'abbiamo creato ma è vuoto perché è vuoto perché non ci abbiamo ancora fatto commit dentro i file sono ancora nella working copy che è collegata al repository ma non è mai stata committata dentro al repository quindi dobbiamo come prima volta adesso se andiamo qua nel progetto e il mouse decide di non morire proprio adesso no decide di morire proprio adesso va bene andiamo in team e vedete che il menu team si è popolato parecchio prima non c'era niente adesso ci sono tutti i vari comandi per lavorare con repository team allora la prima cosa che dobbiamo fare è un commit copiamo la working copy nel repository e lui apre questa finestra che chiama git staging dove ci chiede due cose essenzialmente la prima cosa sulla sinistra ci chiede sì ma quali file vuoi committare tutti mi rispondo io ma lui non lo sa perché magari ho fatto un file di prova un file che non voglio non mi interessa metterlo nel repository tanto lo cancellerò allora io qua devo selezionare tutti i file elencati qua e spostarli sotto qui abbiamo queste due finestre cambiamenti unstaged e staged changes lo staging che cos'è è la preparazione di un file prima del commit è qui che git si complica diventa un po' arzigogolato cioè io ho dei file nel mio progetto sono stati modificati rispetto ai repository sì perché nel repository non c'è niente e quindi ciò che c'è è stato modificato quando faccio commit però io posso fare commit se voglio solo di un sotto insieme dei file che sono stati modificati allora lo staging è semplicemente un sotto insieme è questo sotto insieme cioè quali sono i file che voglio includere in questa operazione di commit lui negli end stage mi fa vedere tutti i file che sono stati modificati nel senso di cancellati modificati o aggiunti all'interno del progetto e sta a me a decidere quali mandare in commit di solito saranno tutti a meno che non abbia fatto un pasticcio e allora non voglia salvare le modifiche di quel file lì ma riprendere la versione vecchia ad esempio e quindi vedete che è cambiata l'icona anziché punto interrogativo è diventato un più verde cioè punto interrogativo mi diceva guarda che questo file è modificato è nuovo ma non so tu che cosa voglia farci adesso il più verde vuol dire questo file è nuovo e so che tu lo vuoi aggiungere al repository quindi la prima cosa che mi chiede parte a sinistra di questa figura di questa finestra quali file parte a sinistra della finestra messaggio di commit la motivazione perché lo vuoi fare eh perché questo qua è la versione iniziale qui è un testo libero posso scrivere ciò che voglio qualcosa che mi ricordi il motivo del commit ok sono pronto per poter premere uno di questi due bottoni sotto commit o commit and push la differenza forse ce l'abbiamo chiara commit ci salva le modifiche che sono state che sono state messe nell'hardest staging all'interno del repository locale solamente oppure commit and push fa il commit e immediatamente dopo me la salva sul repository remoto anche io adesso voglio fare anche il push poi dopo magari se sto lavorando in treno non sono collegato non voglio fare il push ma lavoro solamente localmente ad esempio quindi sta a me scegliere ogni volta commit and push adesso mi chiede una cosa la chiede solo una volta per ogni progetto mi dice sì ho capito che vuoi fare push ma dov'è il repository remoto dove si trova lui dà un nome c'è un nome breve per repository remoto lo chiama origin quindi quando sentite parlare di origin significa il repository remoto è il nome breve ma l'indirizzo vero dov'è? l'indirizzo l'avevamo tenuto in caldo qua copia uri incolla quindi io qua nel campo uri che è l'indirizzo incollo l'indirizzo del repository che mi dà github e ovviamente sotto dovrò specificare le credenziali con cui eclipse dovrà accedere a github quindi l'origin mpassword che avete selezionato su github poi se dice memorizzarlo se dai permesso ai clip di memorizzarseli questi non te li chiedo ogni volta perché se li ricorda come adesso nel mio caso a questo punto abbiamo tutto abbiamo scelto quali file commitare qual è il messaggio di commit abbiamo specificato qual è il server remoto l'indirizzo del repository su cui fare push e andando avanti mi fa il riassunto di che cosa fa avanti e finalmente arrivo a conferma esattamente se quello che sto per fare è quello che ti aspetti di fare perché quando faccio push di solito non c'è modo di tornare indietro nel senso che sto scrivendo la storia sto aggiungendo una riga finish il commit lo fa in un secondo perché significa semplicemente salvare un file all'interno del computer il push ci mette un attimino e alla fine mi dice questo è stato pushato sul server ok allora sono di nuovo cambiate l'icona a questo punto anziché il più verde c'è il bidoncino che dice che questo file è stato sincronizzato con il repository se torno sulla pagina del progetto in github se aggiorno la pagina vedrò una cosa diversa non vedo più il messaggio che mi dice il repository è appena stato creato devi popolarlo vedo i file del progetto la descrizione questo l'avevo già messo e tutti i file che ci ho messo dentro quindi c'è la cartella source prova se entro dentro vedrò il file main.java eccetera eccetera del mio progetto quindi qua vedo i file se clicco su commit vedo l'elenco dei commit che sono stati fatti ciascuno da chi quando col commento e se cliccassi sul singolo commit mi fa vedere quali sono le specifiche variazioni che sono state fatte questo è il codice ogni commit ha un codice numerico identificativo caso di dubbio che lo rende unico al mondo quindi io qua posso vedere i file posso vedere le modifiche non lo vediamo oggi è possibile anche gestire più branch cioè più versioni diverse dello stesso progetto che vanno avanti in modi diversi in modi e tempi diversi ma oggi non ce ne preoccupiamo quindi qui abbiamo inviato il primo progetto su github adesso ci possiamo lavorare magari vogliamo modificare il file pro.fxml perché è brutto ci aggiungiamo un paio di icone un paio di bottoni a casaccio metto un bel bottone qua nel centro bellissima applicazione javafx lo salvo tanto per modificare qualcosa ricordiamoci di aprire l'fxml poi magari modifichiamo il main in modo da rendere più piccola la finestra perché 400x400 per il bottone press me è troppo grande qui ho fatto un paio di modifiche sto lavorando sul progetto normalmente lo testo lo provo lo faccio partire lo faccio partire eccola qua bellissima e puoi far così tante volte e poiché ha una funzionalità importante la salviamo subito allora guardate sempre le icone main.java e prova.fxml hanno il maggiore che indica che sono state modificate ci sono delle modifiche da salvare tasto destro sempre sul progetto sono tasto destro team commit che cosa questi due questa volta l'icona è diversa non è un più ma è una specie di asterisco che dice il file c'era già ma questo è diverso è stato modificato e questo ho messo aggiungi bottone o commit locale oppure normalmente commit and push non mi chiede più niente perché il repository è ormai già stato impostato la password se la ricorda quindi va veloce a questo punto mi dà la conferma ok no se lo chiede se allora la domanda era se tutte le volte devo inserire credenziali lui dovrebbe ricordarsene però c'è una casella di spunta sotto che dice memorizzare queste nella vault nella se tu spunti quella casellina non te lo chiede più la volta successiva non te lo dovrebbe più chiedere perché quella vault è il password manager di eclipse praticamente e quindi ho fatto il commit posso tornare a vedere il progetto se lo aggiorno vedrò che adesso ci sono due commit e a fianco di ogni file mi fa vedere il commento relativo all'ultimo commit che ha modificato quel file o quella cartella e vado avanti così quindi questa serie di passaggi cosa abbiamo fatto abbiamo visto due cose uno come creare un progetto su github da zero creo il progetto in eclipse primo passaggio secondo passaggio creo il progetto vuoto in github terzo passaggio team share project lo share fa una serie di domande crea il mio repository locale dimmi dove è quello remoto eccetera eccetera e sono a posto e il primo commit è push che copia la versione zero la versione iniziale del progetto fatto questo diventa facile fare i commit delle versioni successive team commit adesso qualcun altro perdono qualcun altro vuole lavorare sul mio progetto io qua ci sto lavorando finisce così però immaginiamo che qualcun altro dica bellissimo questo progetto io lo voglio fare più bello ancora allora impersoniamo un altro utente per impersonare un altro utente io riapro eclipse però su un workspace diverso quindi quel progetto non ce l'ho più ok tdp 2017 bis quindi adesso non sono più l'utente di prima sono un utente nuovo che sul suo computer nuovo apre eclipse e dice guarda che bel progetto voglio metterci le mani su voglio provarlo allora il workspace è svuoto è quello che succede a voi quando venite in laboratorio e volete lavorare sull'esercizio che vi abbiamo dato allora io posso creare un progetto facciamo l'operazione inversa prima c'è già un progetto su github io mi creo localmente un progetto eclipse collegato a quel progetto su github allora l'operazione inversa è più semplice quindi l'utente diverso da quello di prima importa un nuovo progetto da git quindi file import import che cosa progetto da git e indovino un po' cosa mi chiederà mi chiederà l'indirizzo clone uri da cui clonare il repository remoto ecco il clone è l'operazione di prendere un repository remoto e farne un locale identico da zero è una specie di pull iniziale allora qual è l'indirizzo di clone me lo dice qua github su un qualunque progetto ci sarà questo bottone clona o scarica se tu apri questo bottone ti dice se vuoi clonarlo usa questo indirizzo se vuoi se non vuoi clonarlo vuoi semplicemente avere una copia puoi anche scaricarti lo zip e tu lo guardi con calma quindi io prendo questo indirizzo che è lo stesso di prima però essendo un altro utente non lo so e quindi devo ripartire da zero e mi chiede qual è l'indirizzo e clip è abbastanza furbo che se ho appena fatto copia se lo incollo da solo le credenziali sono quelle dell'altro utente fate finta che non sia sempre io e a questo punto lui è andato a vedere cosa c'è nel repository remoto dice c'è un branch principale che si chiama master noi lavoriamo quasi sempre su quello vai avanti in quale directory vuoi creare il repository va bene cosa dice lui e ora ha fatto il clone del repository quindi finora ha lavorato git e si è fatta una copia del repository adesso si sveglia Eclipse e dice guarda che casualmente quel repository che hai clonato dentro contiene un progetto Eclipse vuoi che ti ricostruisca il progetto sì perché altrimenti avrebbe semplicemente copiato il file e ti avrebbe lasciato lì sì allora il progetto si chiama così finish quindi dobbiamo dire sì un po' di volte non è nulla di speciale e qui abbiamo nuovamente il progetto bellissimo di prima appena clonato di pacca fresco da un altro utente e quindi anche noi possiamo dilettarci col press me a piacere adesso non riesco più la metà porta finestra ma la chiudo quindi è lo stesso progetto ci possiamo lavorare possiamo salvare le modifiche e così via cosa capita se questo utente il secondo utente fa una modifica e quindi il primo deve in qualche modo aggiornare il proprio progetto allora fare una modifica lo sappiamo come si fa noi cambiamo il nome del bottone perché press me non ci piace premere per favore lo scriviamo in italiano perché abbiamo localizzato il programma dall'inglese all'italiano bene lo riproviamo e vediamo che il programma è diverso si chiama premere per favore questa volta e questa modifica ci piace così tanto che la salviamo quindi faccio un commit questa volta ho modificato un file solo che è questo e quindi posso versione italiana commit and push questo è l'altro utente che lo sta facendo segnatevi un asterisco un pensiero che riprendo tra un attimo io sto facendo push perché ho il permesso di scrivere in quel repository perché guarda caso sono sempre io poi riprendo tra un attimo questo asterisco per dirvi cosa devo fare nel caso in cui dove avessi volessi modificare un repository di qualcun altro che io non posso andargli a modificare un repository a quell'altro ma per ora prendetelo come nota da non dimenticare ok allora l'altro utente ha fatto queste modifiche da contento ovviamente il sito si è aggiornato questa volta avrà ben tre commit aggiornati fammi vedere tre eccolo qua in questo caso nei commit fa sempre vedere me ma in realtà questo me è diverso dal me di prima serve essere un po' schizofrenici su questo torno al me di prima tornare al me di prima cosa significa? significa ritornare al workspace precedente voi non dovete fare tutti questi equilibrismi solo che per far vedere con due utenti avendo un computer solo quindi riavvio Eclipse sul workspace del me vero nel me vero nel progetto Eclipse del me vero c'è ancora sempre lo stesso progetto di prima nella versione inglese press me come faccio ad aggiornare il mio progetto andando a pescare le ultime modifiche che sono state fatte nel repository condiviso con l'operazione di pool quindi tipicamente quando uno si mette a lavorare prima di fare qualcosa dice facciamo un pool così mi aggiorno mi allineo a quello che hanno fatto gli altri poi vado avanti con il mio lavoro non è obbligatorio ma è più semplice quindi repository tasto destro team pool pool e pool due voci la prima senza i tre puntini la seconda con i puntini quella con i puntini vuol dire che ti fa delle domande in più ti fa delle finestre mentre l'altra parte con la comprensione di default vediamo solo che domande ci farà dice bene vuoi far pool cioè vuoi copiare nel repository locale le modifiche che sono state fatte in un repository remoto da quale repository remoto vuoi copiare è uno ne abbiamo finora però in teoria ogni progetto potrebbe avere tanti repository remoti diversi quindi in questo caso già che ci siamo possiamo dirgli questo configure upstream for push and pull imposta dei default per cui ai pool successivi non ti chiede di nuovo sa già collega già il master del locale al master dell'origin collega i due repository meglio in certo senso si salva le informazioni per fare i push e i pool completi e attenzione un pool sta portando nel progetto corrente delle modifiche da un repository remoto in teoria io non so se nel progetto corrente ci sono state fatte delle modifiche dei commit successivi diversi da eventualmente i commit che c'erano nel repository remoto quindi lui mi dice guarda che stai facendo un pool ma dopo che ho fatto il pool posso fare un'operazione di merge di fusione delle modifiche che tu hai fatto sul locale con le modifiche che altri hanno fatto sul remoto e questa è l'operazione normalmente da fare prova a fare la fusione delle modifiche in caso contrario non potrebbe fare il pool se ci fosse anche solo una modifica l'alternativa al merge e rebage che non vi spiego oggi in questo caso sappiamo che non è successo nulla di strano e quindi lui dice guarda questa questa è la modifica che sto prendendo dal remoto va bene sì e a questo punto come per magia il file prova.fxml si è aggiornato con la versione italiana del nostro programma quindi abbiamo visto altre due cose uno come importarsi un progetto che è presente su github e cominciare a lavorarci in locale file import project from git e basta poi sull'altro progetto ho fatto dei commit ma i commit li sapevamo già fare però a questo punto quando ho più di un utente che fa commit sullo stesso progetto per sincronizzarsi i vari utenti devono fare a un certo punto un pool in cui un utente va a riprendere le modifiche che sono state fatte committate pushate scusate l'uso dell'italiano in questo modo dagli altri utenti allora se siete da soli è più facile ok creo il progetto share lo condivido commit and push e salvo praticamente lavoro in locale e salvo sempre per avere tutta la storia se mio amico vuole vedere il progetto gli do l'indirizzo lui si fa clone e ha un progetto uguale non solo il progetto ha tutta la storia dietro perché se io vado a vedere se vado a vedere anche localmente dove è history maledizione cerchi una cosa e non la trovi è sotto team e sotto kit vabbè non mi piace oggi qui di solito fa vedere a gioco dimenticate gli ultimi 30 secondi localmente posso vedere so che adesso mi sto incasinando posso vedere le modifiche che sono state fatte i vari commit che vedevamo su github io li vedo anche dentro e clips ovviamente vedrò i commit che sono nel repository locale che coincideranno con quelli del repository remoto se ho fatto i push e i pull in modo da aggiornarli ok l'ultima cosa l'ultima operazione che ci serve è cosa devo fare se invece non ho la possibilità di fare push direttamente su questo repository cioè quando vuoi sempre nel caso trovo un progetto bellissimo fatto da qualcun altro posso fare clone se il progetto è pubblico posso fare clone posso fare i miei commit sul mio computer ma poi non potrò fare push nei repository di quell'altro se non mi ha dato il permesso di farlo allora come faccio allora github ci dà un'operazione molto semplice che si chiama fork che è quella che vi consigliamo di usare in laboratorio in laboratorio metteremo dei progetti di base progetti di partenza su cui poter lavorare su git tdp 2017 slash lab 1 lab 2 li avete già visti se voi volete lavorarci potreste fare il clone di quelli ma poi non potrete fare appunto salvare le modifiche ciò che potete fare è chiedere a github di fare sul server un altro repository remoto che sia il clone di quello che volete copiare su cui volete lavorare quindi l'operazione di fork è un'operazione tra repository remoto e repository remoto crea un nuovo repository remoto identico la differenza è che lo crea nel tuo spazio quindi quando io sono su repository di un altro e faccio fork lui mi dice bravo ti faccio una copia ma dove te la metto? te la metto nel tuo spazio personale se voi avete una cosa sola probabilmente non mi cade anche questa domanda e quindi accendo il fork a parte l'icona della forchetta che è penosa sono in un progetto che si chiama Fulvio Corner slash prova che è un dice lui forked from TDP 2007 slash prova quindi questo è un progetto nel mio spazio personale che è stato forcato clonato dal progetto di TDP quindi voi in laboratorio oppure quando avete il progetto di qualcun altro la prima cosa che fate se vi interessa fate un fork così ne avrete nel vostro spazio un progetto identico con tutta la storia identico e da quel momento in avanti andate avanti voi sul vostro vi fate un clon del vostro essendo vostro potete fare tutti i push che volete questo tra l'altro è un buon modo anche pensando al laboratorio se fate esercizio non vi viene avete delle domande ci potete mandare il link al vostro repository tanto al repository pubblico noi possiamo vedere i file che avete modificato il progetto e eventualmente potremo di tutto clonarcelo anche senza modificarlo e provare a eseguirlo provare a vederlo che è il modo più comodo per condividere i progetti mi sono fatto un fork sul mio spazio personale ci ho lavorato e ti dico che cosa ho fatto ti faccio vedere che cosa ho fatto quindi a questo punto io potrei in Eclipse fare un clone di questo e lavorarci tranquillamente quindi il workflow del laboratorio o del corso in generale è sempre questo vedete un progetto vi fate un fork nel vostro spazio dal progetto nel vostro spazio fate un clone e cominciate a lavorarci clone su Eclipse importa progetto da git e ci lavorate e diventa un progetto vostro che è indipendente dagli altri poi è possibile in questa casalina qua vedere chi ha fatto fork quando cosa ha modificato perché fin tanto che lavoriamo su progetti pubblici è tutto pubblico in pratica non ci interessa direttamente ma già che parliamo di fork vi dico qual è la versione inversa l'operazione inversa al fork cioè io mi sono fatto una copia locale cosa succede vabbè finisce lì perché ci voglio giocare io però immaginate che avete trovato su github un progetto molto bello che però a cui vi va bene vi piace ma gli manca una funzionalità che a voi serve ve la potete aggiungere vado sul progetto di tizio fork ci lavoro commit push bellissimo adesso mi potrebbe interessare dire all'autore originale del progetto guarda ho fatto questa modifica ho fatto questa aggiunta vuoi integrarla nel tuo progetto cioè non posso fargli io push dentro a casa sua ma posso dire guarda queste modifiche a me piacciono te le racconto se vuoi integrarle nel progetto perché altrimenti cosa capita è che lui il suo progetto andrà avanti farà altre cose e io tra sei mesi magari voglio aggiornare con le ultime cose che ci ha messo lui e dovrò riprendermi il suo progetto e andarci a mano a riapplicare le modifiche mie che ho fatto io che nel frattempo sono rimaste sulla versione vecchia del progetto quindi ho due progetti che vanno avanti con velocità diverse sarebbe molto bello che quelle modifiche mi sono integrate nel progetto principale come posso fare attraverso questa operazione che GitHub chiama di pull request pull request dice io non posso farti push a casa tua ma posso chiederti se hai voglia tu di fare pull dal mio progetto e quindi attraverso una pull request in questo caso è una pull request molto blanda perché non è cambiato infatti non me lo dice non me lo lascia fare perché non ha cambiato nulla però se avessi cambiato qualche cosa mi farebbe scrivere un po' di commenti in cui a questo punto io dico all'altro guarda ho modificato questo questo quest'altro mi farebbe riassunto dei cambiamenti delle differenze sui file fatti e mandarebbe un messaggio all'altro autore che si vedrebbe arrivare un messaggio dicendo guarda Fulvio Corno ti ha inviato una pull request decidi tu se accettarlo o no perché ovviamente il progetto è tuo quindi questa è la dinamica che GitHub chiama di social coding in cui chiunque vuole prendere il progetto di un altro migliorarlo e se vuole chiedere l'autore originale di incorporare le proprie modifiche i propri miglioramenti allora noi questa parte qui diciamo non la usiamo non ci serve potreste usarla tra di voi però se lavoraste su qualche progetto comune allora ognuno lavora nella sua area o fai un progetto in cui entrambi hanno accesso e possono fare push direttamente oppure ognuno lavora nella sua area a un certo punto fai delle pull request per incorporare le versioni di repository diverse da qua in poi poi le cose si diventano più complesse perché ovviamente Git ha ancora i vari livelli di complessità sopra questo ma i livelli base sono questi ricordiamocelo dentro il menu team di Eclipse i comandi che abbiamo visto che usiamo essenzialmente sono commit c'era share all'inizio adesso non c'è più perché oramai l'abbiamo già creato e pull pull call merge dentro sono i due principali che usiamo nel day to day ok quindi alla volta prossima anziché dirvi scaricati lo zio ho visto che qualcuno l'ha già fatto dei fork usando GitHub già nella sezione scorsa però della volta prossima sarà il modo normale ciò che troverete nel laboratorio sarà anche un'altra caratteristica di GitHub ci vuole un minuto che si chiamano release cioè questo progetto ha dei commit e e delle release allora i commit sono tutte le modifiche che sono state fatte l'abbiamo già visto invece le release sono alcuni alcuni commit particolarmente importanti e cui voglio dare un nome e quindi perché io magari faccio dieci versioni e poi arrivo alla versione finale che funziona da consegnare poi faccio ancora delle altre modifiche e arrivo ad un'altra versione migliorata allora non tutti i commit hanno delle cose importanti alcuni si allora voglio fissare un punto fare una versione completa che ha un certo significato quindi la versione 1 la versione 2 la versione 2.5 del mio sistema allora questo è un release allora nel e quindi per creare un nuovo release basta semplicemente schiacciare questo bottone fai una release nuova e lui ti chiede di quale commit vuoi farla e gli dai un po' di spiegazioni quindi semplicissimo da fare semplicemente mettere in bella un commit allora nei vari progetti che faremo noi cercheremo vi daremo sempre due release una è la versione 1 pre-release il progetto base quello da cui voi dovete partire e l'altra è dopo un po' comparirà faremo poi il push della soluzione quindi se voi volete vedere il progetto completo andate su soluzione e vi potete fare il clone di questa release quindi andate su questo commit qua e vi prendete questo se invece volete vedere la versione iniziale per provare a fare esercizio partite dal progetto base e importate quello ok per oggi è tutto vi faccio come dicevo noi ci vediamo per il laboratorio di domani potete mostrare agitare i foglietti di github così vi facciamo una bella foto di gruppo buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti